mamma mia io come lo tiro fuori questo ai guys benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale io sono luca questo è riflab e oggi come avrete capito dal titolo volevo vedere con voi l'acqua d'osmosi cos'è un impianto d'osmosi come si cambiano i filtri che utilizzo io e due tre cose che appunto vi possono aiutare con l'impianto d'osmosi ok prima di tutto cos'è un impianto d'osmosi l'impianto d'osmosi non è altro un impianto che viene collegato alla rete idrica e attraverso dei filtri ok adesso vediamo singolarmente purifica l'acqua attraverso l'azione osmotica cosa fa questo questo filtro si purifica l'acqua però come la purifica ok tenete ben presente che nel nella rete idrica nell'acqua che vi arriva il rubinetto a casa e prese sono presenti medicinali ci sono vari metalli pesanti nitrati fosfati a quantità ammoniaco pure a quantità ammoniaco a quantità e appunto quello che fa questo impianto è diciamo purificare tutto tutti questi metalli questi medicinali che ci sono all'interno della rete idrica e darci un'acqua molto molto più pura ok come la purifica c'è questo primo stadio che io personalmente utilizzo con filtro di sedimenti ok dai 5 micron è una maglia davvero davvero fine sottile e riesce ad intrappolare tutte quelle particelle tutto il particolato che è presente nella rete idrica 5 micron è davvero piccola come misura e gli altri due sono rispettivamente il primo un filtro di carbone in blocco e il secondo un filtro di carbone in granuli praticamente l'entrata d'acqua entra qui inizia per una filtrazione meccanica ok della dell'acqua e poi finisce fra in queste due dove c'è diciamo una filtrazione sempre meccanica chimica ma per dirla di una maniera cosa fa il carbone attivo il carbone attivo quello che fa principalmente è toglierci i medicinali e eventuali altri diciamo componenti chimici che non ci interessano appunto nel nostro acqua li elimina appunto attraverso l'azione del carbone attivo poi l'acqua arriva in questa fase qui l'acqua entra qui fa questo giro entra in quest'altra qui rientra in questa esce e arriva nella membrana ok la membrana diciamo è il cuore del nostro nel nostro impianto d'osmosi perché grazie a lei riusciamo a scendere quelli che sono i metalli pesanti da diciamo l'acqua purificata l'impianto d'osmosi ha due uscite d'acqua ok ha un ingresso di acqua e due uscite d'acqua una che si chiama o viene diciamo comunemente chiamata acqua di scarto ed è un acqua che contiene appunto una volta passata nella nella membrana è un acqua che contiene tutti i metalli pesanti ok che sono composti in quest'acqua quindi viene chiamata acqua di scarto che noi possiamo rimettere nella nostra idea idrica idrica però voglio fare un appunto su questa cosa dopo è un'altra uscita ok la seconda uscita che poi è l'acqua diciamo purificata da tutti questi materiali che a noi non interessano appunto nella nostra acqua volevo fare un appunto sull'acqua di scarto perché appunto un tema abbastanza importante no cioè non possiamo diciamo più o meno che un impianto d'osmosi regolare ok come questo qui che sono diciamo quegli impianti domestici ok che si utilizzano appunto per uso domestico l'unica cosa che ho fatto io è togliere un uno stadio o tappa di rimineralizzazione ok che viene utilizzata per appunto l'acqua diciamo da bere perché togliendo tutti i minerali quest'ultimo stadio di rimineralizzazione sull'uscita della membrana rimineralizza l'acqua per poi essere diciamo bevuta però in acquario a noi non ci interessa rimineralizzare l'acqua ci interessa arrivare ad avere un'acqua pura che poi pure su questo facciamo un altro appunto però per quanto riguarda l'acqua di scarto diciamo che un impianto d'osmosi come questo che che costa più o meno dalle 80 90 euro dall'eroe merlin da ikea non so dove lo potete comprare io questo lo comprai dall'eroe e l'ho pagato più o meno 80 euro quindi più o meno è questo il prezzo che potete pagare ovviamente per un impianto standard se poi volete aggiungere una pompa booster o più bicchieri come questo che dopo ve lo spiego che cos'è diciamo potete tranquillamente aggiungere altri componenti però appunto dovete calcolare i costi per chi non sapesse cosa fosse una pompa booster la pompa booster praticamente è una pompa che ci mette a pressione l'impianto d'osmosi qualora noi non avessimo diciamo abbastanza pressione nella nostra rete idrica circa 3 bar 3 bar e mezzo ok questa pompa se se noi non arrivassimo a questi 3 3 bar e mezzo questa pompa ci aiuterebbe ci aiuterebbe a diciamo arrivare come minimo a questi 3 bar e mezzo e portare fino a 6 bar però abbiamo bisogno di manometro ci sono dei vari oggetti da da considerare però nella mia zona l'acqua esce più o meno una pressione di 3 barre e mezzo quindi va abbastanza bene e quello che produce appunto l'acqua l'acqua di osmosi è un per ogni litro di acqua di osmosi quindi di acqua purificata produce dai 3 ai 5 litri di acqua di scarto ok e l'appunto su sta cosa era che se noi produciamo dai 3 a 5 litri di acqua di scarto immaginate che noi volessimo produrre 20 litri di acqua di osmosi stiamo producendo nel frattempo anche 100 litri di acqua di scarto questi 100 litri di acqua di scarto è comunque acqua che noi paghiamo per prima cosa e seconda cosa la rigettiamo nel sistema idrico è tranquillamente un'acqua che possiamo riutilizzare io per esempio personalmente riutilizzo l'acqua di scarto mi finisce l'acqua di scarto in una tanica che poi appunto utilizzo quest'acqua per lavare il pavimento innaffiare le piante non so fare qualche lavoro con l'acqua mi serve quest'acqua appunto non cerco di non buttare tutta l'acqua appunto che produco di scarto un'altra cosa che possiamo fare con l'acqua di scarto degli dell'impianto d'osmosi perché se qualora noi avessimo un acquario di ciclidi in casa possiamo smizzare quest'acqua di questa acqua di scarto con un poco d'acqua d'osmosi e inserirla nel nostro acquario di ciclidi africani perché appunto sopportano metalli pesanti l'acquario comunque gira abbastanza bene con l'acqua di scarto anche dell'acqua d'osmosi e appunto così non avere diciamo troppa acqua rigettata troppa acqua di scarto e semplicemente poterla riutilizzare detto questo mi sto allungando troppo lo so è solo che il tema è abbastanza largo e come vedete io c'è un altro stadio un'altra tappa ok nel mio impianto d'osmosi questa è un bicchiere aggiuntivo che ho aggiunto io di una resina di deionizzazione praticamente quello che fa questa resina è eliminare i fosfati e i silicati all'interno dell'acqua perché sì la membrana ci aiuta a eliminare tutti i metalli pesanti e medicinali che sono presenti nell'acqua ma non ci aiuta ad eliminare i silicati e fosfati anche se voi in uscita dall'impianto d'osmosi leggete zero di tds non significa che non siano presenti i silicati e fosfati nella vostra acqua di osmosi ok quindi si aggiunge uno stadio per diciamo stare più tranquilli e più sicuri e che più che più che più credo che sia tutto per quanto riguarda il funzionamento dell'impianto d'osmosi e adesso però quello che andiamo a fare andiamo ad aprire l'impianto d'osmosi perché come vedete qui c'ho diciamo il pack di ricambio ok con tutto carbone filtro filtro di sedimenti due carboni e anche la membrana che vi farò vedere forse la cambierò perché questa se non mi sbaglio è una membrana della porton si infatti una membrana della porton è molto buona quella che c'è un interno interno originale della della casa produttrice dell'impianto d'osmosi però appunto lo cambio per la porton che è una marca molto molto buona di membrana che produce membrana in generale produce componenti per la purificazione delle acque quindi la andiamo a cambiare come vedete ci sono queste tre cose qui adesso mi metto in una posizione un po più comoda perché già vi dico che succederà un casino cadrà tutta l'acqua sul sulla scrivania però appunto vi voglio far vedere come cambio e come si cambiano i filtri della dell'acqua d'osmosi niente vi metto in una posizione migliore lo vediamo ok ragazzoni allora penso che vediate così spero di sì se no ditemelo il prossimo video ovviamente però credo che riusciate a vedere allora ci abbiamo queste tre chiavi ma chiamiamole così che ci servono appunto per aprire i vari diciamo bicchieri che contiene che contengono i nostri filtri ok io ne ho tre perché uno questo qua piccolino e per la membrana il secondo che per questo bicchiere qui che ha una dimensione differente rispetto a questi qui è l'ultimo appunto con questo qui che diciamo della casa produttrice adesso come si smonta un impianto d'osmosi di solito si parte dal centro ok si riesce si cambia il filtro centrale in modo da con queste altre due bicchieri darci un attimo di stabilità perché appunto se cambiassimo prima il primo siccome l'impianto d'osmosi è abbastanza pesante ve lo posso assicurare perché pieno d'acqua dovrà tutto dobbiamo appunto cercare di non far cadere né troppa acqua che poi dopo arriverà la mia ragazza e mi bicchierà quindi se avete consorti cercate di pulire dopo e diciamo c'è la stabilità e non facciamo troppi danni quindi la prima cosa che faccio adesso è passare questa parte qui qua sotto che ora non lo faccio davanti però meglio come vediamo se lo riesco ad aprire senza fare troppi casini ok ci ho aperto ce l'ho fatta dopo due giorni però ne avevo stritti abbastanza forte quello che dobbiamo fare appunto diciamo una volta che l'abbiamo sganciato è semplicemente girare il bicchiere ok contenitore come vedete si sta alzando adesso vada dell'acqua ma non vi preoccupate mi dovrò preoccupare io se non pulisco infatti sta iniziando ad uscire acqua ok stiamo svitando tutto facendo un casino questo è il carbone filtro al carbone ok in grandi ok per questo qui non sembra molto sporco ma vi assicuro che lo è abbastanza ok faccio vedere da sopra l'immagine di questo carbone che primo sbagliato ho detto che era in blocchi ma no e in grandi la seconda ok quindi faccio di prima la nuova ok che sarebbe questa qui come vedete credo che sia da qui praticamente l'interno è bianco spero che lo riuscite a vedere l'interno è bianco perché non ci sono appunto contaminanti materiali che hanno contaminato che hanno contaminato il carbone o la maglia che contiene il carbone questa praticamente è nera ok quindi questo già un segno che dovessimo pulire il nostro carbone guardate tutto come è sporco ok quindi questo non buttiamo e direttamente con tutta l'acqua che c'è dentro dopo lo fascia lo lasciamo un po acceso il nostro il nostro diciamo impianto l'osmosi inseriamo appunto lo stadio all'interno del nostro bicchiere ecco fatto un casino però ce l'abbiamo già dentro tanto dopo pulisco io non vi preoccupate e e adesso lo rimontiamo ok così come sta sotto l'impianto l'impianto lo smuosi ok e alziamo li mettiamo sopra adesso chiudiamo ok altra cosa ragazzi dopo io adesso lo lascio così ok come vedete un po aperto però dopo lo chiudiamo meglio sempre con le nostre chiave perché lo dobbiamo stringere forte in maniera diciamo firme per appunto non far fuoriuscire acqua dai bicchieri non sia mai fuoriusci acqua fate un casino in casa quindi questa dopo la stringiamo bene e adesso ok allora adesso passiamo al filtro di sedimenti ok così faccio vedere come è sporco apriamo diciamo che adesso non ci dovrebbe essere molta acqua all'interno dell'impianto soprattutto perché caduta la maggior parte sui miei piedi e sulla nostra privania ok e questa storia attente con questa che questa diciamo è quella che poi nella guarnizione che ci aiuta a mantenere tutto tutta l'acqua all'interno del nostro impianto d'osmosi una volta che chiudiamo questo appunto fa in modo che non fuoriesca acqua e adesso dovevi far vedere il filtro di sedimenti che lo vedete a qui fa davvero schifo ci serviva una cambiata questo è fango praticamente questo è fango proprio e vi faccio dire un filtro nuovo ok questo è un filtro nuovo questo è un filtro vecchio come vedete le differenze si apprezzano praticamente dovrebbe essere così bianco ed è così marrone una sciacquata al bicchiere di sedimenti in modo che lo sciacquiamo un po internamente perché appunto c'è un po di schifezza all'interno e ritorno fra due secondi ok allora eccomi qui pulito internamente e adesso gli ripiazziamo dentro diciamola il filtro di sedimenti ok da 5 micron quando c'è scritto in spagnolo ma lo potete leggere tranquillamente che da 5 micron che di solito è quello che si utilizza appunto qui lo leggete che si utilizza appunto per i filtri sedimenti per gli impianti d'osmosi ok dobbiamo fare e metterla all'interno entrare il piccolo diciamo il cancio che c'è sotto e piazzare questo ok adesso passiamo all'ultimo il carbone in blocco ok così vediamo anche l'ultimo quando ci siamo questo è l'ultimo dei tre bicchieri che abbiamo al di sotto della membrana questo il carbone in blocco potete anche lui aveva bisogno di un cambio e adesso inseriamo il nostro bel carbone nuovo ok è fatto così come vedete abbastanza pulito è nuovo e che lo rimettiamo dentro dentro è fissato e lo rimettiamo giù ok ragazzi ora allora primi tre filtri cambiati ok adesso cambiamo la membrana ok quello che dobbiamo fare semplicemente staccare questo dobbiamo qui qui e saccare la membrana ok questa sarà difficilissimo ad aprire perché lo stretta fortissimo e vengono strette fortissimo adesso vediamo ok ragazzo allo 37 ore dopo ci sono riuscito ho smontato la parte superiore della membrana e adesso c'è la membrana che non è tanto semplice ok ragazzo allora tirata fuori ok state attenti sempre alla membrana perché va in questa posizione adesso lo vediamo come va la membrana posizionata però la membrana va posizionata in questa maniera ok se questo è il vostro impianto ok così questa è l'entrata della membrana ad osmosi ok in questa maniera qui adesso è quello che faccio vi faccio vedere pure la membrana nuova della porton e poi ci viene imbussata in questo diciamo in questa busta qui perché porta un olio che è lubricante e serve anche per far mantenere la resina ok come vedete che dovrebbe esserci scritto che dai 50 galloni al giorno ok per chi non savesse più o meno il rapporto fra galloni e litro e ogni un gallone equivale più o meno 4 litri 3 litri e 97 qualcosa del genere quindi adesso questa l'apriamo e la inseriamo all'interno della cartuccia che ragazzo la membrana aperta come ho detto questa parte qui va sopra o meglio ma in questo verso qui la inseriamo dentro e l'unica cosa che dobbiamo fare è un po di pressione quando la inseriamo ok niente più basta finito terminato una volta rinserita la membrana assicuriamo che sia rinserita bene e abitiamo il tutto ok 37 ore dopo ci sono riuscito a smontarla adesso faccio vedere il filtro come fatto questo diciamo è componibile come filtro nel senso che lo possiamo riempire della resina che ci interessa ok avere all'interno è il nostro impianto e questo è semplicissimo si apre attraverso questa valvola ok si tira fuori pezzettino di materiale un perlone semplicemente che filtra l'acqua in modo da non farci arrivare troppe particelle in nel bicchiere e qui abbiamo il nostro diciamo composto quello che andiamo a fare adesso è tirarlo semplicemente e ricaricarlo con quello nuovo lo vado a tira e ci vediamo fra poco ok ragazzo eccoci qui il diciamo porta filtro pulito e quello che adesso facciamo e riempirlo con la resina che ho detto prima dell'acqua forest che sto utilizzando io attualmente siccome ce l'ho la finisco di utilizzare ok ragazzi allora sta qui non è tutta piena ovviamente ma come l'altro che non era tutto pieno perché comunque con mezza diciamo cartuccia riusciamo a filtrare abbastanza bene il tutto perlomeno dove ci sono tds bassi in entrata a me più o meno i tds entrano a 150 160 a volte 200 dipende però appunto diciamo che abbiamo terminato mettiamo tutto dentro chiudiamo e raga abbiamo terminato praticamente quello che dobbiamo fare l'ultima cosa che dobbiamo fare rimontare tutto all'interno o meglio dove abbiamo noi il nostro impianto ok controllare al massimo se abbiamo chiuso bene il tutto e rimetterlo in marcia almeno un 10 minuti in 10 15 minuti per far sì che tutti gli elementi presenti nei carboni o nei filtri comunque vengano filtrati e diciamo non rilascino poi i sedimenti quando andiamo a produrre acqua allo smuoni quindi niente più ragazzi credo che sia tutto per questo video e spero che vi sia stato utile il video ok e come vedete ho finito la resina questa resina è ottima per più o meno due ricariche di cartucce ok di questa maniera e sto con un casino e mezzo devo pulire assolutamente tutto altrimenti prendo una bella mazzata e nada mas gente come sempre dico spero che il video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video